Si rinnova l'appuntamento con il presepe d'autore che la Banca di Cambiano allestisce ogni Natale nel giardino della sua sede di Villa Fagan a Firenze, oltre 20 figure a grandezza naturale realizzate dal gruppo Donatello su tavole in legno sagomate, che ritraggono personaggi contemporanei, commercianti, artigiani, imprenditori, a rappresentare il tessuto sociale ed economico del territorio e a sottolineare il fatto che i tesori più importanti sono quelli del cuore, quest'anno la novità è rappresentata dalla figura di Don Milani, che con la sua comunità di Barbiana fa ingresso nel presepe. Un grande educatore, un grande uomo e un passaggio che spesso Don Milani usava diceva che quando tutti sono responsabili di tutto, finisce che nessuno è responsabile di niente. Questo lo diceva a noi ragazzi che ovviamente fuorché ordinati avevamo di tutto. Però è un principio fondamentale che deve essere riscoperto e deve essere posto alla base del convivere, del rispetto reciproco, della riscoperta dei sensi profondi dell'umanità, che in questo momento purtroppo con l'episodio della guerra in corso è calpestato, e quindi l'auspicio e la fiducia è che anche in occasione del Natale che stiamo avvicinandoci si possa augurarci che scoppi la pace.